Tata, 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 tata Jingle bell, jingle bell, la 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 Atmosfera natalizia, atmosfera natalizia, tutta con l'abituino, ho scelto questo poi alla fine abitino scozzese, se avete visto il get ready with me, anzi no era un face of the day ho messo questo itino che è troppo carino, molto molto natale vero? oddio stavo cascando allora allora video hall è da un sacco di tempo che non faccio video hall video hall, abbigliamento e non beauty, perché quelli make up eccetera avete visto un sacco di cose, soprattutto di shopping online e oggi volevo fare il video hall CVG moda voi sapete che io sono CVG dipendente cioè tipo che non posso non passare almeno settimanalmente da CVG moda e ho preso una proprio una caterva una caterva di roba che vi volevo far vedere sono tutte cose che amo amo tantissimo e questa volta sono stata ispirata anche dalla compagnia della mia amica Carlotta c'era il pandemonio con il quale sono andata a fare shopping ma ormai è passato almeno un mese solo che tra una roba e l'altra non vi ho fatto vedere le cosine e alcune cose le abbiamo presi uguali da perfette bimbe minchia però non ci piacevano tanto le abbiamo presi uguali questo per esempio io l'ho copiato da lei che però mi pare non l'avesse preso da CVG moda ma sempre da un china e infatti l'aveva messo anche in uno dei suoi video molte ragazze gli avevano chiesto dove l'avesse preso perché è veramente troppo carino e io quando l'ho visto l'ho preso anche io uguale parlo di questo abitino fatto così molto molto invernale come fantasia ma anche come tessuto vedete un bel tessutino spesso e pesante l'ho pagato solo 14,99 ragazze CVG è imbattibile a livello di prezzi ed è un vestitino che ha le manichine lunghe ma così guardate questa come l'ho misurato era messo esatto era risvoltato ha le manichine appunto risvoltate qui appuntate anche qua alla fine guardate come sono carine cioè sono veramente deliziose queste manichine girate così e ha il punto vita segnato appunto dalla cinturina diciamo sempre nello stesso tessuto ma che segna ecco il punto vita e poi la gonna che casca così a ruota è veramente un amore è delizioso e i quadrettini sono neri non so qua io in anteprima li vedo un po' tipo verde bosco ma no sono neri ha la zip a vista sulla schiena cosa che mi piace tantissimo la zip dorata e io questo abitino lo adoro cioè proprio lo adoro è veramente bellissimo e poi finalmente un abitino invernale perché spesso vedete fanno questi abitini sbracciati troppo estivi cioè ma è una a freddo invece questo abitino qua è veramente spesso è di tessuto pesante adattissimo per l'inverno e solo per l'inverno quindi primo acquisto è stato questo poi ho preso una maglia bellissima bellissima sempre per un prezzo veramente irrisorio adesso la allaccio magari prendo anche questa gruccia così la vedete meglio perché riesco a farvela vedere grucciata così si coglie meglio come è fatta il prezzo è sempre mentre io allaccio così parlo ecco qua il prezzo è sempre da CVG Moda cioè 17,99 18 euro mi piace da morire il colore ed è fatta così sopra ha tutto questo pizzo che prosegue lungo la manica che vedete è fatta in questo modo finisce così e poi la maglia è in chiffon e viene giù morbida l'adoro è di questo blu azzurro carta da zucchero grigiastro si è un azzurro carta da zucchero ed è veramente un amore cioè io trovo che questa sia veramente una maglia molto molto carina che è impreziosa cioè nel senso mettete queste anche un semplice paio di jeans e il look è fatto perché parla da sé questa maglia stupenda magnifica poi ho preso dei pantaloni ho preso dei pantaloni dei jeans degli skinny jeans adesso li devo risvoltare perché li ho misurati e li ho lasciati al rovescio questi allora cvg è pieno di pantaloni a vita alta se vi servono che vestono veramente wow bellissimi sto praticamente deponendo in un angolo dell'armadio tutti i miei jeans non a vita alta perché comunque io li uso anche quelli a vita bassa ancora perché tanto ci metto sopra le maglie quelle lunghe ma quando voglio usare dei crop top delle maglie corte o comunque d'inverno per tenere molto più calda la pancia e la schiena la parte bassa della schiena non avere il sedere al vento non avere il sedere al vento non avere il sedere al vento e quelli a vita alta sono fantastici perché ci tengono molto molto più calde sempre prezzo cvg moda quindi imbattibile 18,99 eccolo qua e sono i classici skinny taglio jeans in questo grigio un po' un po' così un po' slavato eccoli qua semplicissimi perché comunque non hanno niente di che se non che sono altissimi vedete sono veramente super alti di vita dietro molto molto semplici hanno semplicemente una targhettina dorata qua dietro dove c'è scritto jeans niente di che ma non si legge nemmeno è talmente piccolo e niente come vedete sono a vita altissima e credo che andrò a prendere da cvg anche altri di questi pantaloni uno per il prezzo due perché mi sembrano veramente molto fatti molto bene molto comodi molto morbidi con la vita altissima e c'erano in un sacco di colori quindi sicuramente cvg mi vedrà ritornare per sceglierne di altri colori penso che li vorrei addirittura soprattutto volevo dire li cerco bordeaux poi questo che cos'è niente questo è una specie di aggeggio che ha comprato il mio fidanzato vedete di berretto mimetico per il maxi freddo che arriverà che dovrebbe arrivare quindi questo qua è il suo berretto di pile l'ha pagato tipo 3,50 euro sempre da cvg moda e poi vado a prendere l'altro sacchetto perché ho fatto due puntate in questa ero sola ho fatto questo shopping da sola nell'altra ero con la carli allora con la carlo tonzi che cosa ho preso allora ho preso questo body il body no questo non l'ho preso con la carli questo l'ho preso sempre da sola ma l'aveva preso la carli la volta prima ma per me non c'era la taglia e poi l'ho trovato ha soli 8,99 euro quindi che ve lo dico a fare sempre prezzi insomma cvg moda è un body fighissimo per le serate discotecare infatti ha queste rifiniture delle maniche che sono in questo tessuto lucidino che imita insomma la pelle l'ecopelle ma è in realtà tessuto non è neanche ecopelle è solo che è così lucidino e sembra insomma una rifinitura di ecopelle poi qua è in tulle come vedete e ha la sagomatura delle coppe nel seno un po' così a scollo a cuore e poi niente è stropicciatissimo infatti lo devo lavare ma appunto è fatto a body è fatto a body qua sotto in modo che così quando lo portate con i pantaloni si incastra perfettamente soprattutto nei pantaloni e nelle gonne a vita alta e anche la schiena è in tulle quindi adesso lo laverò perché era chiuso qui nella borsa quindi nella borsa nel sacchetto e quindi era tutto stropicciato poi ho preso questo questo top che invece carli ha uguale identico l'abbiamo preso uguale e questo l'abbiamo comprato lo stesso giorno e non mi ricordo quanto costa 16,99 insomma siamo sempre lì con i prezzi meraviglioso con tutto questo pizzo sulle manichine che termina così una cosa tipo un po' sfrangiata che adoro mi piace da morire e poi ha questa rifinitura sul collo così un po' vittoriano con tutte le cosine in ecopelle che vanno giù a rifinire il top che è tutto pizzato mentre dietro è tutto in tessuto nero con la decorazione però che va anche dietro di pizzo vedete qua è veramente un amore questo top super 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 come dicono le grandi guru super super bello stretto bello largo bello morbido le cose che comprano le youtuber sono sempre belle bello stretto bello figo bello caldo bello morbido bello sexy bello 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 va bene poi ultima cosa che ho preso da cvg moda sempre da risvoltare perché anche questo io mi levo tutte le cose le lascio al rovescio quando me le levo mi sbuccio praticamente quando mi spoglio va bene allora questi pantaloni 14 e 99 anche questi li ho presi uguali anche Carlotta c'è veramente una shopping bimbo mi inchiesco le bambine le bambine delle medie compravano le cose uguali cara Carly 14 e 99 è inutile che tu faccia il video lo faccio io per tutte e due allora ecco qua pantalone con è elasticizzatissimo questo è proprio sapete il pantalone della cos'era della freddy fatto apposta per tirare sul sedere ecco questo qua l'ha fatto cvg moda a sole 14 euro e 99 perché questo viene tutto super su compatto una figata ha questa fascia in ecopelle non abbiamo la fissa dell'ecopelle quest'anno no le taschine qua laterali per il resto è un pantalone nero che scende skinny molto molto semplice in un tessuto bello grosso sostenuto e dietro è fatto così con i profili di pelle ma vi assicuro che sopra è fighissimo c'è proprio è la vestibilità di questo pantalone che fa tutto cioè visto così uno dice visto addosso dici wow e chi sei e chi sei e chi sei e chi sei Alessandra Ambrosio Kate Moss no no però con questo pantalone effettivamente meriti 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 tanto e niente questo quindi era l'ultimo mi pare sì no 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 c'è un jeans un jeans pighissimo anche quello è anche una gonna vedi mamma mia alla fine ci sono troppe cose ci vigimata c'è questo pantalone pantalone questo jeans aspettate che volevo chiudere la cerniera ma non ci riesco si è rotto dimmi di no no non si è rotto ecco qua il jeans in questione è questo in questo una vita altissima in questo tessuto jeans molto slavato molto used altissima come negli altri casi la vita con queste impunture che arriva proprio all'altezza della vita questo punto qua è proprio la misura della vita e niente poi per il resto è skinny così fino a giù niente di che carinissimo dietro perché ha il particolare di avere le taschine e anche la cernierina qua che si chiude appunto sulla schiena cioè dalla vita scende fino 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 e va bene questo l'ho pagato l'ho già usato quindi non so quanto l'ho pagato ma magari ho conservato lo scontraeno questo no questo era delle cupole perché quelle cose che ho preso da sala le ho prese dal CVG del centro commerciale le cupole mentre questo l'ho preso al centro commerciale quello di Milano Fiori a Dastago e e e e vediamo il jeans l'ho pagato 20,99 euro infatti ho conservato il sì certo non si vede niente ma perché fai così cara luce fidatevi eccolo qua 20,99 euro e questa mi hanno anche fatto la CVG card per raccogliere i punti non so devo ancora leggermi il regolamento va bene cosa ho preso poi ho preso delle scarpe ho preso delle scarpe ma no ho preso una gonna ho preso una gonna ho preso una gonna vi faccio vedere la gonna fantastica quanto ho pagato la gonna cara Silvia non si capisce perché CVG donna CVG donna credo 15,99 sì credo 15,99 vediamo questo cos'è no non si capisce quanto io l'abbia pagata forse 15,99 comunque fatto sta che è questa gonna è meravigliosa è fatta così come vedete queste strisce sono trasparenti è fatta in questo tessuto stranissimo elastico vedete è un elastico è fatta così io l'adoro è troppo bella addosso è un bijou cioè l'ho messa mi hanno fatto tutti i super mega complimenti sembra sembra uno strisce argente in realtà sono strisce trasparenti quindi sotto va messa anche se è doppiata però vedete che si vede la la mano perché è doppiata così con una gonnellina però a sua volta un pochino trasparentina ma se mettete collant quelli super spessi 100 denari va tutto a posto va tutto bene e questa è la gonnellina che ho preso e niente questi erano tutti i miei acquisti da CVG Moda o anche altre cose da farvi vedere ma che ho preso altrove e vi farò vedere quella nell'altro video shopping le scarpe le cosine che ho preso da Mixery Moda e poi da qualche altra parte ho preso qualcosa di qualcos'altro ma diciamo che il grosso era appunto tutta la robina che ho preso da CVG Moda videoshopping concluso io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao